buongiorno gente quanto tempo cosa è passato una settimana più o meno come vi avevo detto oltretutto dunque allora ci sono delle novità in questo periodo che non ci siamo sentiti eccetera eccetera allora ho sentito anzi sono andato letteralmente dall'Humanitas un ospedale a Milano per chi non lo conoscesse per sentire un secondo parere e loro mi hanno detto che sono molto esperti chiariamoci anzi oltretutto ho parlato con quella che è il capore parte oncologia primaria e mi ha detto che lei è proprio immischiata molto è molto immersa nel mio genere di tumore lo studia tantissimo ne ha curati diversi e così via dicendo alcuni addirittura forse un paio che sono già tanti li ha curati completamente anche grazie alla chirurgia infatti mentre ero lì che parlavamo ovviamente a livello oncologico ho chiamato anche il chirurgo per mostrargli la mia malattia l'estensione perché ho portato ovviamente l'attack tutti gli incartamenti e cose del genere il chirurgo ha detto no guarda in questo momento non sei operabile come mi era già stato detto quindi non c'è nessun problema però a livello oncologico mi hanno detto che abbiamo già fatto tutto quello che potevamo fare nel senso ci sono ancora altre terapie che si possono utilizzare e così via dicendo ma per adesso quello che è stato fatto è esattamente quello che avrebbero fatto anche loro quindi di conseguenza non ci sono problemi ma io non ne avevo dubbi solo che capite bene la situazione ultimamente è peggiorata tanto la mia stessa famiglia aveva bisogno di sentirselo dire infatti sia loro che i miei amici hanno pressato molto su questa cosa di andare a chiedere altre pareri in altri ospedali quindi abbiamo deciso di andare all'Umanis come anche il canale l'altra volta che vi ho detto che ho provato a vedere per dire no? e loro hanno detto che comunque puntano di più sulla chirurgia in questo momento non è possibile ma se con le nuove terapie che dovrò iniziare ci sarà la possibilità dopo ovviamente ci vorrà tempo di operare quindi che la terapia va bene la massa non solo si blocca ma si riduce anche così magari appunto l'operiamo vediamo ci vorrà tempo però loro sono più propensi a questa cosa perché dicono più il tipo di cancro è aggressivo e rompiscatole più dobbiamo esserlo noi e quindi vedremo beh si è riaperta forse per adesso no ma si potrebbe riaprire la finestra dell'operazione speriamo bene nel frattempo comunque io sono sempre l'istituto perché comunque le biologiche hanno fatto esattamente quello che vogliono fare ma non avevo assolutamente dubbi sono ignorante in materia ma mi fido di loro anche perché sono tra i migliori che ci sono quindi assolutamente anzi comunque per correttezza io poi gioidi cioè praticamente ieri sera ho sentito in videochiamata il mio oncologo per parlarne per parlare la situazione e cose del genere e gli ho detto anche per correttezza che ho chiesto altri pareri e anche a chi dove eccetera eccetera lui mi ha detto si no hai fatto benissimo anzi se hai bisogno sono io stesso che ti do il contatto di altri oncologi di altri ospedali l'importante comunque è che tu vai a parlare con qualcuno specializzato cioè non un ospedale a caso che magari si hanno un reparto oncologico ma non di una certa importanza quindi magari non conosco bene il tuo tipo di cancro e cose del genere l'importante è che vai da gente che effettivamente lo studia e effettivamente prova a curarlo ha detto non siamo in tanti perché appunto è molto raro e così via dicendo però qualcuno c'è infatti lui conosce la dottoressa da cui sono andato all'umanitas per parlarne tutti molto gentili con cui mi sono trovato veramente bene anche lì quindi veramente veramente bene comunque sta di fatto che è sentato fuori che è la nuova cosa che devo fare con le pastiglie non so come si chiama perché non me l'ha detto comunque questo è il meno dei problemi probabilmente inizierò settimana prossima io spero già iniziare questa settimana invece a quanto pare andrà settimana prossima allora le cose che mi può bloccare sono un po' di mal di pancia e questo non è un problema anzi mi può aiutare perché sono un po' bloccato a causa delle masse eccetera sono un po' bloccato diventerò fondamentalmente probabilmente biondo sbarra platino mi cambierà proprio il colore della barba dei capelli e così via dicendo ha detto che già da un momento che lo inizierò non so qualche giorno quando ci sarà la ricrescita già si vedrà il cambiamento quindi dovrò completamente rasarmi appena vedrò la ricrescita di diverso colore e via mi vedrete diverso spettacolo ci sta volevo cambiare colore perché no dai volevo no scherzo sto dicendo è una minchiata è una cavolata scusate per la parola comunque mi ha detto anche per quanto riguarda invece il fatto che comunque faccio una gran fatica a mangiare cose del genere di non mangiare due pasti al giorno tre vabbè più o meno mezzogiorno una quando pranzo sempre poco ma appunto cinque pasti poi magari verso le due no scusate verso le quattro magari tra le quattro e le cinque e poi a cena cioè di vedersi un po' gli orari in questo modo anche in base a che ora mi sveglio nel caso mi sveglio tardi faccio colazione faccio pranzo faccio due pasti tra il pranzo e la cena e poi cena perché almeno così tiro giù poco alla volta il corpo riesce ad assorbire quel poco alla volta e poi quando ha finito bene arriva ancora un po' in modo tale che io ho più energie durante tutta la giornata piuttosto che fare due pasti grossi che tanto faccio fatica a tirarle giù perché la massa nel boccato stono così blocca un po' cioè gli ho fatto vedere la situazione ne abbiamo parlato anzi loro anche inviagli oltretutto l'attac che ovviamente essendo a Milano non sono più stato da loro non ho potuto portare gli ho mandato ovviamente al coppia fisica cioè l'ho scritto fondamentalmente ma ovviamente il cd no quindi dovrò inviarlo via raccomandata lui mi ha detto anche di fare un sistema online sono scaricare poi inviare ma se ci provo faccio un disastro probabilmente cancello tutto quindi è meglio che invio tutto attraverso una raccomandata e e niente queste sono fondamentalmente le piccole novità che ci sono in questo periodo io sto fondamentalmente bene non è cambiato granché dalla settimana scorsa sì un po' la solita storia mi pressa un po' fa un po' male anzi gli ho anche parlato del fatto che ci sono questi dolori così ma ho detto che probabilmente poi vedremo quando tornerò nell'altro ospedale dove sono ancora adesso dovrò parlarne con la primaria in modo tale che magari se necessario poi appunto ne parliamo con calma magari mi cambiano il cerotto del dolore ma magari iniziamo per una vera e propria terapia del dolore ma per me non è necessario anche tenere questo cerotto in questa situazione sì qualcosa di dolore sento ma non è una cosa costante quindi di conseguenza fa niente non sento la necessità di essere bombardato di antidolorifici o cose del genere non ne sento la necessità assolutamente ma anche vada se è un dolore particolarmente forte che continua prima aggiungo un cerotto a quello che ho già se poi vedo che persiste cose del genere allora allora sì allora ne riparliamo che c'è qualcosa da cambiare perché è successo qualcosa eccetera ma fino ad allora secondo me io ne parlerò perché faccio seguo il suo consiglio per amore del cielo non possono dire che non li avevo avvisati però a parte questo non credo che ce ne sia bisogno ho una buona sopportazione del dolore io comunque quando dico anche mi fa male qua non è per fare la vittima è semplicemente perché mi sembra giusto avvisare tutto qua tutto qui ho una buona grazie al cielo è una buona sopportazione del dolore anche perché mi hanno fatto di quelle punture veramente dolorose che lasciamo perdere se non ne avessi avuto mi avessi sentito urlare fino a Napoli probabilmente e quel che facevo praticamente ogni volta che andavo a fare il lirino tecan il bloccaggio fondamentalmente è un liquido come vi avevo detto che quando te lo iniettano brucia in un modo assurdo per meno di un minuto ma brucia in un modo veramente veramente assurdo un po' come quando mi hanno messo il port qui questo qua per chi non l'avesse ancora visto perché magari è nuovo vedete questo si vede un po' e vedete questo qua vedete che c'è un taglio sopra ecco quando mi avevano fatto questo fondamentalmente ha bruciato da matti ma non il taglio è proprio l'anestesia l'anestesia ma mi avevano avvisato c'è anche questo ma l'ha bruciato da matti quindi grazie a cielo con una buona sopportazione del dolore comunque volevo solo darvi questo aggiornamento fondamentalmente la mia salute è rimasta invariata ho perso qualcosina di peso ma non in modo eccessivo da oggi appunto ho iniziato perché appunto non ho parlato di essere scusatemi da oggi ho iniziato questa nuova dieta diciamo 5 pasti al giorno piccoli ma comunque in tutta la giornata divisi in tutta la giornata in modo che il mio corpo assorba il più possibile senza affaticare senza topparmi e cose del genere mi ha sconsigliato verdure perché nella mia situazione essendo bloccato potrebbero gonfiarmi e roba del genere come anche quei latticini e cose del genere e come prima praticamente che avevo già detto in un video precedente per chi l'avesse visto e ha detto di mangiare quel poco che mangio quei 5 pasti di mangiare cose sostanziose perché già mangio poco tante volte ma poco è almeno di mettere giù qualcosa di appunto che mi dia energia fondamentalmente è quello per cercare anche di recuperare un po' di peso perché l'ultima volta che avevo visto con lui ero 87 kg a non volevo dire una bala marzo se non ricordo male adesso mi sono pesato l'altro ieri ero 77 vestito cioè ho perso più di 10 kg cioè facciamo 10 kg mettiamo il caso quindi insomma chili ne sto perdendo senza dubbio quindi niente adesso proviamo con questa dieta in teoria appunto mercoledì penso comunque vi avviserò dovrei iniziare la nuova terapia a base di pastiglie che ha detto che è già qualche anno che la usano ma sotto questo aspetto con il mio tipo di tumore è già diciamo quasi innovativo non è che non l'ho mai provato ma è abbastanza innovativo si spera che funzioni poi oh raga vedremo cosa fare vedremo nel caso ma rosa non essere ottimista è porco giuda speriamo che non solo lo blocca ma lo ritrae anche in modo tale che poi possa esserci questa operazione oh raga incrociamo le dita che devo fare buona giornata buona continuazione a tutti spero che stiate veramente bene e grazie a tutti a voi che mi seguite da sempre a voi che siete nuovi grazie 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 con tutto il cuore ciao ciao